Berlino è tutto. Era uno dei ragazzi per Fridays for Future anche in molte città italiane. Allora noi andiamo in diretta con Fulvio Totaro a Bari. Si vuole un pomeriggio, la busta di carta, la borraccia. Gli studenti di Bari insistono sul riuso dei prodotti. A distanza della manifestazione del 15 marzo sono tornati in piazza per sensibilizzare automobilisti e pedoni. Anche un cartellone alla mia destra con il ciclo della carta per spiegare quanto si consuma per usare i prodotti quotidiani. A Marco Modugno chiediamo che cosa avete fatto in queste due settimane. Allora abbiamo creato, stiamo ancora creando un gruppo di scuole grazie ai quali chiederemo ai presidi delle nostre scuole alcune mosse per renderle più sostenibili. Una di queste sarà quella di utilizzare risme di carta riciclata invece quella non riciclata e sostituire le macchinette dell'acqua in bottigliette di plastica con dei dispenser di acqua corrente. Per fare questo però purtroppo spesso si incappa nella burocrazia e quindi che... Continuate a chiederlo. E questa è la protesta da Bari, è tutto, linea allo studio. Friday for Future!